Il prossimo 20 novembre il Centro Sportivo Meridionale di San Rufo si scioglierà, verrà azzerato tutto il CDA e l'ente sarà messo in liquidazione con la nomina di un commissario. Volge così verso la chiusura l'esperienza del braccio operativo dell'ex consorzio Salerno 3 che ha gestito il ramo sportivo della struttura prima di doversi arrendere al precario stato delle sue finanze determinato da un indebitamento importante. Per non perdere però tutto il patrimonio di edifici e impianti e gli aspetti positivi legati ad essi che sono funzionanti e contano migliaia di iscritti oltre ad assicurare l'allenamento della squadra di Serie A Sporting Sala Consilina è nata dinanzi al notaio a Salerno la fondazione Sport e Territorio che avrà il compito di gestire tutto quanto era del centro sportivo meridionale senza il peso dei debiti da questo accumulati. A dare impulso alla sua creazione è stato Vittorio Esposito, commissario liquidatore del ramo rifiuti del consorzio in odore di doversi anche occupare della liquidazione del centro sportivo. Presidente della fondazione, la cui sede è ora San Pietro Altanagro, è il sindaco di Polla Massimo Loviso. Al suo fianco ci sono poi i primi cittadini di Monte San Giacomo, Angela D'Alto e di Petina, Domenico D'Amato tra gli artefici della fondazione che è pronta ad aprirsi anche ad altri enti pubblici e partner per irrobustire la sua solidità e la sua presenza sul territorio. Direttore generale è Enrico Zambrotti. Le intenzioni sarebbero quelle di ripetere il modello Mida, centrale per il sistema ruotante attorno alle grotte di Pertosa. Gli obiettivi della fondazione sono infatti ambiziosi, non solo legati allo sport e alla gestione degli impianti e del museo, ma anche all'organizzazione di eventi e di iniziative sociali, alla promozione del turismo e alla valorizzazione del territorio.